Arcano numero 7 Irtano Procedere E' quasi un ordine La carta del campo rappresenta il trionfo, il progresso, l'evoluzione La vittoria proviene dalla fermezza dei propositi, dalla coerenza, dall'equilibrio Per i gitani il campo trainato dai cavalli rappresenta il procedere nella loro vita di un Cavalcando vanno i gitani, gli uomini speranti e le donne di un tritaglio Sono le parole di un canto flamenco che sottolinea l'importanza del cavallo per i zingari Non solo nella vita quotidiana ma anche nel loro universo ontologico e religioso Non solo nella vita quotidiana ma anche nel loro universo ontologico e religioso Non solo nella vita quotidiana ma anche nel loro universo ontologico e religioso